ragazzi buongiorno nuova location che in troppo sarà dedicata si partirà sempre da qua se le macchine permettono nel parcheggio oggi cosa chi è venuto a trovarmi con una bella macchina azzurra marco da parma vicino a parma da viadana da viadana che parma e cremona giusto ma è mantova addirittura è mantova e mantova ragazzi allora marco che problema abbiamo con la macchinina non andava non andava quindi adesso noi abbiamo montato il peda sprint e vediamo di farla andare speriamo nei sorpassi di far riuscire a fare un sorpasso elastico esattamente vieni di qua marco vieni vieni così perché il problema è lui adesso ce l'ha anche gpl questa macchina è gpl quanti chilometri hai marco 600 e rotti 600 chilometri ragazzi tanto ormai la conosciute tutti nel video ce ne sono tante di mg zs sapete come va chi ce l'ha sa come va la macchina e chi vuole comprarla si informa vedrà un video cosa cos'è che stanno montando su quella mg interessante marco è venuto qua perché ha visto dei video tanti tanti video quindi se incuriosito sei informato mi fa gherry voglio provarlo voglio venire a montarlo perché da quello che vedo in giro e vedo le persone sulle macchine tutte contente voglio stare contento pure io eccola la ragazzi andiamo faccio un test drive marco partiamo e vediamo come va tanto adesso lo vediamo in diretta nuovi copri targhe ragazzi questi sono definitivi eccoci qua quindi li hai fatto montare a parte giusto si si ho fatto il gpl un brc perfetto mi hanno consigliato il brc in hollande ok si perché ha più qualità più qualità si allora guarda andiamo a destra andiamo a destra poi andiamo a sinistra ragazzi eccola qua si si tutto di qua andiamo giù di là così abbiamo un po di strada con i doss così faccio rallentare e accelerare già partiamo con i dossi marco e te le faccio provare dal primo all'ultimo eccolo qua senti come va adesso così è comfort eh quando andiamo a destra eh c'è differenza c'è differenza c'è già differenza già la senti a pedale eh si si guarda eh così è spenta infatti si è così esporta adesso è partita accelerata ragazzi ecco i paio chilometri della macchina no vabbè guarda adesso fatti sto addosso guarda che bestia che è guarda eh piano piano di seconda ah bella tac ferma eh adesso così te lo spengo così è spenta è tornata originale adesso faccio provare l'ultima quella che fa già ritengo quella e basta faccio provare il race qua andiamo dritto di là guarda così adesso tu sei in race e facciamo una partenza da permula faccio lo stop eh e così è race che dici marco e beh andiamo ancora dritto eh sì perché tuo è quello che usi in paese questa è la macchina questa seconda terza prima seconda terza quarta se riesce a metterla è quella di quarta e noi siamo in race ragazzi io lo lascio in race lui lo lascio in race allora race è così eh Marco ti faccio il video così dopo sei a caso eh se invece destra scusami se invece Marco ti faccio vedere dal video non lo vuoi guarda qua eh partenza quasi in sgommata dai dai che ci sta è bella ragazzi si è sparato anche lui un bel po' di chilometri per venire qua da me per venire a provare il pedal sprint fammi provare sto pedal sprint che ne vedo tanti di video in giro adesso lo voglio proprio provare anche io sulla mia macchina qua andiamo a destra poi allora sulla questione consumo ci sono anche queste due qua no Marco destra e sinistra e e più però se tu vuoi sprint perché devi andare faccio sprint lascia così tutto in race poi Marco una volta che tu sei così tu esci dal telefono cioè dall'app e puoi anche lasciarlo a casa lui rimarrà sempre sempre in race no? quindi ci fermiamo un attimo al simbato che ti faccio vedere due cose e poi abbiamo finito il video possiamo rientrare Marco quando tu andrà a fare il tagliando concessionaria occhio nobile cuore non duole spegni che è schiacciato questo qua tipo il telecomando della televisione quello rosso sì esatto dopo tu quando esci schiacci i race e si illumina e si illumina di rosso o se no lo spegni che è questo sì questo lo accendi e questo è il pedal block che ti ho fatto vedere prima tu lo schiacci lui non va più il pedale acceleratore andiamo a destra perfetto Marco ma poi dopo che con le istruzioni la mettiamo la chiamata ma poi mi puoi chiamare no 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 puoi fare quello che vuoi cioè non è che ti abbandoniamo a te stesse capito c'è l'assistenza ci sono io avanti là sinistra avanti là ci sono io quindi problemi non ce n'è ma bravo vedi come va subito di terza qua a sinistra Marco dentro lì dentro lì dentro lì sì 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 vai vai qua dentro perfetto sai cosa devi mettere nei video per arrivare a te vicino deposito dare un'indicazione adesso non dire niente perché è una sorpresa non siamo ancora dritto 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 non è ancora tutto definitivo capito poi ci sarà tutto ci sarà tutto il necessario finché bacio senti che bella eh bella eh i cavalli sono sempre quelli però è bravissimo l'abbiamo slegata guarda come va via bello Marco cioè mg slegata mg preparata mg finita dovrebbero uscire così da casa madre dovrebbero sì qua sempre dritto e a posto facciamo vedere poi alla fine del video li facciamo vedere il pedal block e siamo a posto allora Marco siamo fermi ragazzi eh siamo fermi tiravi la freccia marca così chiudi anche la porta così non si sente niente nessun rumore anche la radio abbassiamo il volume ok perfetto allora ragazzi quando vi trovate in questa schermata che aprite l'app schiacci ps il primo in alto ok ancora una volta chi dirà attendere macchina ovviamente accesa questo di step ti potrebbe distrarre la guida ovviamente schiaccia ok vedi che lui è rimasto in sport prima allora tu ti metti in race perché lo vuoi in race il pedal block è quello in alto a sinistra schiaccia schiaccia lui diventa tutto colorato esatto si stai già provando a schiacciare ok non accelerare ragazzi lui spegnerà la macchina se ne va esce dall'app fa quello che vuole rientra in macchina mette in moto riapre l'app lo sblocca in alto a sinistra lui ritorna ancora in race e la macchina accendera ragazzi abbiamo detto tutto marco per spegnerlo questo qui bravissimo e lui tutto bianco così rimane spento originale si esatto se invece quando vuoi metterlo in race vai su in alto la R e si illumina di rosso e io sono apposto e io sono apposto marco ti ringrazio grazie mille grazie per avermi scelto grazie per aver scelto pedasprint ti saprò dire in futuro come andrà esatto adesso ti puoi un po' di autostrada poi magari chiamami mi dici gerry è molto più elastica esatto esatto ragazzi la scatoletta è qua lui gliela lasciamo perché la scatoletta va sempre lasciata al cliente come garanzia ovviamente marco garanzia tre anni tre anni partenza da oggi alla grande ragazzi iscriviti al canale gerry pedasprint youtube tiktok instagram e facebook a posto grande grazie ciao ciao ciao